Eccoci qua, allora vediamo subito a bomba, andiamo su un'altra grafica interessante, così completiamo un po' la diagnosi di questi disegni e cerchiamo di capire anche la valenza che possono avere per un genitore. Vediamo un po' che cosa ci dice lei professore e soprattutto che tipo di utilità possono avere. Chiediamo della regia se ci possono mettere già in onda subito la grafica successiva a quella dei disegni. Ecco vedete qui c'è, allora affrontiamo un problema pratico, lasciamo stare le teorie. Questa è una mamma, non si legge magari dall'inizio si potrebbe anche leggere ma la riassumo, è una mamma che dice caro professore io sono la mamma di tre bambini, uno a dieci anni, uno a sei anni e uno a quattro. Dove sta il problema? Il problema sta che il primo figlio è indiavolato col secondo figlio e in casa non si vive assolutamente bene. Si potrebbe fare qualcosa, non lo so. Quale soluzione si può trovare? Quale soluzione o comunque ragioniamoci su? Allora qui non è che si veda troppo bene ma qui già la scrittura della madre mi dice come lei è una signora un po' fragile, noi diciamo filiforme, molto sensibile, composta, controllata in sé ma profondamente anche insoddisfatta. Qualche volta non ce l'ho più, vediamo per esempio due ricci che mi dicono la trasandatezza di quelle donne che hanno altri figli, sono da sole e dicono beh cosa faccio? Andiamo a vedere allora la scrittura, la presentazione del figlio maggiore e questo è il suo albero. Costruisce un albero, facciamo veloci perché so di avere poco tempo, innanzitutto guardi la struttura del tronco, è molto robusto, cioè la personalità del ragazzo si presenta ben forte, ben superiore probabilmente, anzi lo vedremo a quella della madre e poi manca di comunicazione, non ha rami, non ha verzura questo albero qua. E' fatto tutto di spunti ma non di conversazione, di capacità di comunicazione. Interessantissimo quel buco che c'è sul, sembra quasi il buco dove ci sta cip e ciop, no? In realtà è proprio così, cioè un grande desiderio di intimità e un grande desiderio di bene, di amore, vogliono dire quei buchi all'interno del tronco di un albero. Ecco questo è un albero, si potrebbe dire tante cose, vede il sole sulla destra in alto, c'è il sole, ma il sole che non è ben percepito, percepito, anzi un sole quasi scuro, un sole che fa paura, chissà come mai, vediamo il perché. Andiamo su la magia successiva, andiamo su, eccolo qua. Questo è il suo autoritratto, che cosa le dice questo autoritratto, così visto anche da una persona che non se ne intende, guardi che impronta, innanzitutto esiste solo lui, non solo il corpo come abbiamo visto prima, ma solo la testa, quegli occhi lì sono terribili, sono molto intensi e nello stesso tempo anche malinconici, nello stesso tempo anche non fissano qualche cosa di reale, le orecchie sono tanto grandi, la voglia di ascolto... Stringiamo subito i tempi, che può essere interessantissimo, però dobbiamo arrivare a conclusione. E questo finalmente mi dice tutto, fai il disegno della famiglia. In alto, in mezzo, abbiamo lui, il primo genito, con due camerette molto ordinate. Sotto, qui si capisce tutto, è quello che non ha detto la madre, sotto c'è una scala. Nella scala c'è un bambino, in alto e a destra, quello è il fratello che urla sempre, dice mamma... Poi c'è la mamma, poi c'è una persona seduta su una sedia, poi c'è il bambino più piccolo, poi c'è un televisore. L'uomo seduto sulla sedia non è il marito, non è il padre. Il padre infatti è dall'altra parte, sulla sinistra, in piedi, dritto. Ecco allora, questo allora abbiamo capito. È una mamma separata, è una mamma che ha un compagno in casa, non accettato da Giovanni, perché la gelosia, eccetera, eccetera. Il papà è fuori. Ma io amo mio papà, guarda come l'ho fatto mio papà. Mio papà è forte, mio papà è quasi un cowboy. Quindi la soluzione è cercare di ovviare a questi meccanismi che sono molto alterati. Allora, andiamo avanti ancora, questa è la scrittura del ragazzo, 11 anni, quindi siamo perfettamente in grado. Sarebbe bastato mettere a fronto questa scrittura con la scrittura della mamma. Per dire immediatamente, povera signora, ma viene surclassata. Cioè l'energia... Chi ferma un ragazzo del genere, no? Ma può avere dei problemi psicopatologici un domani? Beh, psicopatologici andiamoci calmi, no? Ma qui ci sono già dei ricci che si chiamano, con voce un po' strana, ricci della mitomania. In altre parole, il mondo che io vivo, mi dice questa scrittura, non mi soddisfa. Allora me ne creo uno io, attraverso però forme di aggressività, forme di sopravvazione sugli altri, attualmente. E non ho qualcuno che mi... E danno la direzzata. Chiarissimo, quindi avete capito quanto si può estrapolare dalla grafia a partire dall'età più giovane, sino ad arrivare al contesto della famiglia. Sarebbe bellissima, affascinante sentire ancora il professore, ma il tempo vola e io voglio vedere anche una perizia grafologica di coppia, di una nota coppia, no? Di una notissima coppia, dove non mi dilungherò, insomma, nello spiegato. Andiamo a vederla subito dalla regia. Allora, sono Jacqueline Bouvier e John Fitzgerald Kennedy. Questa è la scrittura di Jacqueline, successivamente possiamo vedere in grafica anche quella di Kennedy. Eccola. Allora, per essere molto veloci, le accomuna una fortissima ambizione, che però lui gestisce grazie a una sicurezza maggiore di sé, perché qui vediamo dei segni di spavalda. Mentre lei, nell'altra scrittura, si vede molto bene, eccola, ha un maggiore spirito critico, anche se la scrittura è piccola, è sopraelevata, comunque accuminata e anche molto spaziata. E non è ovviamente esente da narcisismo. Entrambi sono delle personalità molto originali, in quanto la personalizzazione del tracciato grafico sia per Jacqueline sia per John sono effettivamente molto personali. Lui è più diretto, la scrittura è più parca, mentre lei è più introversa e imprevedibile. Allora, ci sono dei segni ad arcata, ovviamente fanno parte delle M e delle N, che non sono fatti come delle U, diciamo, ma ad arcata, sarebbero più proprio ad arco, insomma. E poi è presente anche il segno rovesciata. Scusate questi tecnicismi, ma purtroppo... Sono quelli che si usano, insomma. Esatto. John è più aderente alla realtà, è rapido e è bisognoso di contatto immediato. C'è questo pendente, cioè questa forma della scrittura che va verso destra. E poi c'è anche slanciata e un calibro medio-alto. Mentre Jackie è una personalità più inibita e anche sognatrice, cioè questa sua inibizione in qualche modo viene sfogata in questo mondo un po' dei sogni. Lo siamo anche un po' tutte noi donne, un po' sognatrici. È molto selettiva nei rapporti. Lo vediamo dal calibro molto piccolo e anche, se possiamo rimandare la grafica di Jackie, l'amplificazione degli occhielli. E anche un interrigo molto ampio, cioè tra una riga e l'altra c'è una spaziatura molto importante. E a tratta da interessi estetici raffinati, lo sappiamo, insomma, è stata anche un'icona di stile. Jackie O. Ma erano compatibili i due? Allora, entrambi risultano molto capaci a voltare le carte in tavola. Diciamo che lui aveva questa personalità molto più estroversa, per certi aspetti. Sappiamo anche, insomma, senza scandagliare il privato, adesso, com'era l'ex presidente degli Stati Uniti. Mentre lei, alla fine, era una donna più sognatrice e si era ritagliata all'interno di questo menage di coppia abbastanza burrascoso, mi viene da dire, una sua personalità comunque molto forte e anche molto amata. È stata appunto, ricordiamo, una donna intelligente, molto intelligente, ma soprattutto è diventata anche lei un'icona. Nonostante, lei non ha vissuto all'ombra di questa personalità, ma se ne è creata comunque una altrettanto forte. Vabbè, la domanda è un po' così. Ma, professore, si possono vedere, se non avessimo saputo che lui era chi è stato e lo stesso lei, quindi è riuscita a reggere anche queste dinamiche un po' particolari di coppia, una coppia un po' particolare, si poteva estrapolare che era una personalità che avrebbe avuto comunque un ruolo sociale, politico di un certo rilievo, oppure no? Parla di Kennedy? Sì, la scrittura, sto guardandola. È un uomo lanciato, è un uomo lanciato, è piuttosto, adesso semplifico troppo, piuttosto anche superficiale, che sa però cogliere al volo le situazioni cangianti, sa cogliere al volo le occasioni. È aiutato, è messo in certe condizioni, lui prende il comando, perché ha questa aspirazionalità. Non è l'uomo profondo, non è il sociologo potente, è il comunicatore. È un intuitivo, uno che sente. Quindi come abbiamo visto altre volte personalità di un certo spicco, era interessante capire se dalla grafia si può dire questo non è l'uomo qualunque, ma ha un certo tipo di ruolo sociale, quindi è possibile estrapolarlo. Allora, io vi aspetto al prossimo appuntamento, perché senza dubbio ci sarebbe ancora tanto da dire, ed è estremamente affascinante seguirvi anche nelle pedizie, soprattutto anche l'utilità e la valenza che avete visto possono avere per aiutare anche dinamiche, abbiamo visto, di coppia e di famiglia, cosa importantissima, per risolverle finché sia ancora in tempo, perché poi se parliamo nella fattispecie dei bambini, attenzione, i bambini hanno bisogno di un aiuto per non sfociare in personalità alterate un domani. Nella società difficile di adesso le conseguenze sono gravissime. Nella coppia, ancora di più, vista l'escalation di violenze nell'ambito stesso. E quindi io ringrazio i nostri esperti, ringrazio a voi, avete visto il sito per avere informazioni, ripeto il numero per chi fosse interessato, 049 59 57 207. Grazie ancora, buon proseguimento.